Riparano la tubatura dell'acqua ma lasciano la strada in cattive condizioni. Succede da Agropoli, dove nei giorni scorsi i tecnici pare dell'Asis si siano recati in via Mozart per compiere una riparazione. Furono operati un paio di interventi, chiudendo parzialmente e poi completamente, per qualche ora, la strada che conduce all'ex statale 267, dove sono presenti gli svincoli per Vallo della Lucania e per Salerno. Risolto il problema della tubatura, resta però adesso quello della strada, in quanto a seguito della riparazione, l'area dell'intervento era stata ricoperta da terreno friabile e l'arteria oggi presenta dei veri e propri crateri, pericolosi per automobilisti e motociclisti. Procedono intanto su tutto il territorio di Agropoli i lavori di manutenzione ordinaria, dei cigli delle strade extraurbane e la pulizia di cunette e tombini. Operazioni compiute per un fattore di decoro indispensabile per qualificare Agropoli come protagonista del turismo a livello nazionale ed internazionale.